È chiaramente la difesa di un ruolo che hanno i colpi intermedi dello Stato, in questo caso l'ordine degli Avvocati di Venezia e i diritti della difesa sono altrettanto importanti come lo sono i ruoli che ha l'accusa in un processo. I processi mediatici spesso lo vivono le persone senza fare giustizia. Abbiamo aiutato, abbiamo dato noi la sede all'ordine degli Avvocati perché riteniamo che sia un simbolo, tra l'altro è una questione decennale, è la richiesta di uno spazio per gli Avvocati di Venezia. Con la scusa che abbiamo anche investito parecchi soldi sulla cittadella della giustizia, abbiamo pensato che fosse doveroso dare uno spazio importante alla cittadella della giustizia, sì, in un accordo con il Ministero di Giustizia e grazie alla giustizia precedente e ringraziamo anche il governo di adesso che non ci ha tagliato i fondi. Il Ministro Salvini in persona mi aveva promesso che avrebbe recuperato i progetti effettivamente esecutivi, noi avevamo fatto i compiti per casa e in effetti poi nella finanziaria i soldi non sono stati tagliati. Il proferì è 17 milioni di euro, per cui facciamo il secondo lotto. Sì, sì, tutto confermato e soprattutto con grande credo aiuto e sostegno che abbiamo avuto dai magistrati in prima persona.